Ora invece, evocato tra l'altro nell'intervento giustamente del dottor Duretti, chiamerei insieme sia Giuseppe Colonna, presidente della Corte d'Appello, il dottor Colonna, presidente della Corte d'Appello di Bologna e Francesco Raffael Frieri, direttore generale delle risorse per Europa, innovazioni e istituzioni della regione. Un applauso anche per i nostri amici relatori che hanno appena concluso i loro lavori. Bene, direi di partire subito con il dottor Colonna e poi con il dottor Frieri. E naturalmente, visto che Corte d'Appello significa un territorio più vasto ovviamente di quello cittadino e metropolitano di Bologna, capire come questo processo di buona eccellenza, di buone pratiche introdotte nel comune di Bologna e metropolitano è proseguito nel dialogo, in questo caso, Corte d'Appello e Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna. Prego, dottor Colonna. Grazie. Parto brevissimamente con dei ricordi personali. Mi scuserà il dottor Caruso. Ci mancheremo. Il dottor Caruso mi ha ricordato come ho iniziato a occuparmi di problemi digitali. Ero allora assistente incaricato, anzi assistente supplente di filosofia del diritto. E il professor Pattaro mise in campo la ratio iuris che penso che il dottor Caruso ha, e credo di essere stato anche presidente per un certo periodo, cioè la necessità di digitalizzare i testi di filosofia del diritto. Mi permetto di ricordare, tra l'altro utilizzando anche alcune categorie giuridiche della filosofia del diritto finno scandinava. Certo, perché ovviamente la cattedra di Pattaro era particolarmente specializzata in questo anno. Per cui la digitalizzazione mi ha un po' coinvolto fin dalla tenera età, perché parliamo degli anni 75-76, allora ero decisamente più giovane. Poi dopo, andando avanti nel tempo e facendo un salto di molti anni, ho cominciato a cercare di capire come i colleghi dirigenti, nei corsi riservati ai futuri dirigenti e ai dirigenti dell'amministrazione della giustizia, quale impatto avessero con la digitalizzazione. E mi sono reso conto, parlo anche qui di una ventina di anni fa, come fosse difficile far entrare nella testa di dirigenti, o comunque di gente che avrebbe avuto di lì a poco o aveva responsabilità manageriali, che cosa fosse la digitalizzazione. C'era un problema, ad esempio a proposito di patti per la giustizia, il sostituto, il procuratore, peggio, il procuratore della Repubblica, ma io posso mettere sotto processo il sindaco del paese e allora come ne esco? Ecco, e credo che la risposta sia unica. Noi dobbiamo abituarci sempre di più, specialmente in questi tempi, a distinguere le persone e le istituzioni. Cioè io credo veramente che il patto per la giustizia bolognese, qui ho finito la premessa di carattere storico personale, io credo che il patto per la giustizia di Bologna sia stato l'esempio tipico di cosa significa una collaborazione, una sussidiarietà fra istituzioni. Ho avuto la fortuna di fare praticamente tutta la mia attività, di svolgere tutta la mia attività giurisdizionale, anche dirigenziale, a Bologna, eccetto un piccolo periodo di un anno e mezzo quando ero giovanissimo, a Ferrara. Ecco, e devo dire che qui c'è stata, anche a Bologna, che è sempre stata oggettivamente all'avanguardia per molti aspetti, parlo del comune di Bologna, anche a Bologna c'è stata veramente un'evoluzione importante. Io ho cominciato a partecipare al patto per la giustizia quando, credo, ero ancora presidente di sezione nel tribunale, per cui parliamo degli inizi, praticamente, o prossimi agli inizi, la dottoressa Barca faceva già parte del patto. Ecco, e anche lì c'è stata un'evoluzione importante, evoluzione importante, e mi fermo proprio sugli ultimi periodi, nel passaggio fra comune e aree metropolitane. Perché? Perché, secondo me, questo è uno degli elementi che ha favorito anche l'ulteriore estensione alla regione. E qui arriviamo al tema specifico. Io credo nel primo incontro che ho avuto con il presidente Bonaccini, ed è stato circa, direi non stato vedere stamattina, è stato il 25 novembre del 2015, io sono diventato presidente della Corte d'Appello il 26 ottobre del 2015, per cui, diciamo, è stato un incontro velocissimo. Il presidente Bonaccini era impegnato per i problemi seri del processo Emilia, che adesso si sono trasferiti presso la Corte d'Appello, ma non è questo il tema. Ecco, la sensazione che ho avuto immediatamente nel contatto personale con il presidente Bonaccini è stata quella di una grande disponibilità istituzionale. Questa disponibilità istituzionale si è trasferita, direi immediatamente, con l'assessore Petitti. Il dottor Fiveri sa bene come abbiamo. E questo ha consentito oggettivamente di tentare un'estensione prima all'area metropolitana, per questo l'ho richiamata, e poi un'ulteriore estensione del patto per la giustizia bolognese all'intera regione. Questo con una disponibilità, ma non solo da parte mia, che in fondo beneficiavo, parte mia istituzione, non parte mia persona fisica, non solo da parte mia che beneficiavo di strutture e di relazioni che erano solo a mio favore, ma da parte della regione. La regione ha sempre chiaramente compreso, e anche il comune devo dire, che in fondo i nostri oggetti erano simili, erano i cittadini di Bologna, e i cittadini dell'Emilia Romagna, per chi come me, ricopriva una funzione che era di tipo distrettuale. E da lì l'evoluzione è stata, direi, costante e continua, nel senso che la regione ha finanziato 18 borse di studio, di cui alcune destinate specificamente alla digitalizzazione, sta finanziando, mi auguro, sta finanziando, sei borse di studio per il processo Emilia, che sono anche qui, cioè tutti i giovani che vengono all'interno della struttura, all'interno della Corte d'Appello e del distretto della Corte d'Appello, per consentire una modernizzazione. hanno borse di studio, sono borse sostanzialmente di ricerca, che servono sì per collaborare con gli uffici giustiziali, ma che nel progetto hanno lo scopo di vedere dove all'interno delle singole amministrazioni è possibile, dei singoli uffici dell'amministrazione giustizia, sia possibile migliorare. E uno dei temi è certamente, se non il principale, è quello della digitalizzazione. Siamo arrivati a un punto in cui con il dottor Frieri, con la professoressa Piana, con il dottor Arata, siamo andati a Roma, parlo di due o tre anni fa, per dire, sentite, noi siamo a questo punto, cioè noi siamo al punto di estensione del patto della digitalizzazione, innanzitutto all'area metropolitana bolognese, poi siamo in grado di prevedere in tempi brevissimi la possibilità della sperimentazione nell'ambito della Romagna e nell'ambito delle miglie a Modena, pensavamo a Rimini e a Modena. Siamo andati lì, abbiamo fatto un lungo discorso, abbiamo parlato con il rappresentante, cioè con colui che era responsabile sul tema e questo ci apriva delle prospettive. Prospettive che sono ancora migliorate come prospettive, ahimè, poi vedremo sulla realizzazione, spenderò io qualcosa di più rispetto forse al dottor Frieri perché mi sento di poterle spegnere. Prospettive maggiori perché non sappiamo la ragione per cui il Ministero della Giustizia ha scelto, anziché l'Emilia Romagna e Bologna, altre tre regioni per fare la sperimentazione degli uffici di prossimità, che altro non sono che gli sportelli, che non ci sono grandi differenze. Non l'abbiamo capito, ne abbiamo parlato ma non l'abbiamo capito. Però, ecco, subito dopo questa sperimentazione è partito il tentativo di mettere in atto nella regione Emilia Romagna attuativa gli sportelli di prossimità, gli uffici di prossimità, perché il nome è cambiato, ma con un'attenzione da parte del Ministro Bonafede, vecchio governo, particolarmente attiva. Di qui, ecco, la speranza era che il modello bolognese o comunque il modello emiliano-romagnolo che era già arrivato a una prospettiva molto concreta potesse trasmigrare, rimanendo nell'ambito dell'Emilia Romagna, a un interesse di tipo ministeriale. abbiamo sfirmato con grande attenzione, è venuto il sottosegretario, se non ricordo male, abbiamo firmato il protocollo, sono stati messi a disposizione della regione Emilia Romagna, teoricamente, un milione, se non sbaglio, un milione e 300 mila euro per aprire questi sportelli. la regione Emilia Romagna direi che si è attivata immediatamente, per cui ha fatto il bando, ha fatto le convenzioni e adesso stiamo aspettando. Io aspetto poco, essenzialmente aspetta la regione di poter mettere a frutto questo che è un progetto importantissimo, secondo me, che consente non alla regione Emilia Romagna, se non come luogo fisico, ma consente all'amministrazione della giustizia di poter utilizzare, vogliono utilizzare la sperimentazione fatta nella Liguria, in Toscana e in Piemonte, o piuttosto vogliono sperimentare quello che è già arrivato, l'abbiamo sentito oggi, io veramente sono felicissimo di sapere cosa è stato fatto a Bologna, lo sapevo già, ma ho avuto posto da rato degli ulteriori progressi che sono avvenuti, non interessa, mettiamo in campo quello che vogliamo, però certo è che il tempo è maturo, grazie all'originario patto per la giustizia del Comune di Bologna, all'originario patto per la giustizia della città metropolitana di Bologna e al patto che esiste per la regione Emilia Romagna, grazie a questi frutti, grazie a queste cose, possiamo estendere a tutta l'amministrazione della giustizia, a tutto il ministero della giustizia quello che è stato fatto. Io francamente non so cosa accadrà, mi auguro veramente che in tempi brevissimi questa evoluzione possa essere portata a compimento. Grazie. Il presidente Colonna sostanzialmente le conclusioni culturali e politiche del convegno le ha date e mi sembra anche con grande competenza. L'è rimasto poco, perché ci sono anche alcuni aspetti economici, però invece potrebbe essere utile appunto, sollecitato anche dalle conclusioni dell'intervento del presidente, e capire un po' che cosa sostanzialmente su questi temi dell'innovazione digitale, della trasformazione digitale, la regione si porta a fine legislatura, perché è questione di ore, neanche di giorni. Sì, dunque, il presidente Colonna ci ha detto molto e io lo ringrazio per questo racconto che sicuramente ha visto nel presidente Bonaccini e nell'assessore Petitti gli sponsor di un'azione straordinaria che non avremmo potuto fare ovviamente facendo molto di più di quello che ha detto il presidente Colonna in termini di soldi, perché è necessario anche comprendere l'entità dello sforzo finanziario che ha profuso la regione per una funzione la giurisdizione che non è nemmeno col regionalismo differenziato sarà mai e non deve essere di lontano appannaggio per fortuna nessuna regione si è sognata di proporre una cosa del genere e di un di un di un governo territoriale non è un ente locale la regione è un governo territoriale la regione però è un quasi stato nella nuova costituzione quindi ha una sua potere legislativo e così via ma dispone di risorse che sono alternative ad altre scelte ecco queste ultime che via via vanno diminuendo sono annuali a differenza delle altre quindi vuol dire che vanno moltiplicate per tre il nostro bilancio è sempre triennale quindi è uno sforzo molto molto forte non solo stiamo cercando di utilizzare le procedure e anche la capacità di gestione dei fondi europei il primo PON che vedete lì è finanziato con FSE per realizzare questi 64 asporteri noi abbiamo fatto un bando sono venuti soltanto 22 enti territoriali per partecipare al bando aspettiamo che vengano anche gli altri 22 perché il territorio regionale è diviso in 47 ambiti territoriali tolti i comuni capoluogo e non tutte le amministrazioni rurali hanno le capacità organizzative di cui si diceva prima in una grande organizzazione paragonabile alla nostra che ha ovviamente capacità di implementazione in solitudine di alcuni processi di trasformazione digitale quindi la regione è stata di borsi di studio ne abbiamo messo a disposizione non ecco qui lì non scorrono ne abbiamo messo a disposizione di più ne abbiamo messo a disposizione 86 non 13 e ne abbiamo non so se ci siano le borsi di studio io non riesco a vedere cosa scorre e questi sono i fici di prossimità e le borsi di studio sono 85 in questo momento più 6 del processo miglia più ne metteremo a bando altre 70 quindi in realtà si tratta di si tratta di una di un 150 ragazzi che potranno cimentarsi in azioni anche propedeutiche una crescita manageriale nel sistema giudiziario del futuro ecco quindi ci auguriamo che questa sia una grande opportunità dopodiché trasformazione digitale io ringrazio tutto quello che è stato detto alla regione insomma ma alcune mie opinioni e precisazioni allora noi intanto dissento da alcuni passaggi la digitalizzazione di persone non vuol dire un miglioramento della nostra vita ecco la digitalizzazione come diceva l'amico Duretti prima non è un invariante ma è l'uomo che sceglie di utilizzare certe macchine per fare certe cose siamo noi che scegliamo liberamente se vogliamo che una persona decontratualizzata ci porti del cibo a casa direttamente con una bicicletta oppure no lo dico così siamo noi che scegliamo se vogliamo usare Uber o vogliamo usare un taxi quindi attenzione la tecnologia non è un invariante faccio un esempio concreto se non ho organizzato con un modello Lean un flusso e la gestione di un processo e lo digitalizzo può essere che tanti attori dell'organizzazione in cerca di un ruolo vogliano aggiungere un flag quindi io frammento quel processo e paradossalmente finisco per renderlo più critico nella sua capacità di arrivare a un esito forse in alcuni casi anche di allungarlo ok quindi se non ho prima individuato i ruoli quando vado a digitalizzare qualcosa posso fare dei danni enormi non solo tutti i dati non possono essere tutti gli atti non possono essere disponibili quindi devo riuscire a distinguere bene i filtri con cui le persone accedono a certe informazioni a certi atti perché diciamo l'attitudine al foia che ultimamente ha stravolto i due cad precedenti può portare anche alla disponibilità di dati e quindi di informazione e c'è una differenza sostanziale tra dato e informazione perché il dato di per sé in formato CSV è facile da pubblicare si può generare bisogna vedere chi lo usa come lo usa e se qualcuno va a vedere come lo usa e questo vale anche per il sistema giudiziario proviamo a pensare in ambito sanitario sia in ambito giudiziario quante informazioni possono essere sensibili rispetto alla dignità alla stabilità e anche alla tutela dell'individuo ok e quindi quanto una digitalizzazione non pensata a partire da questo possa portare a come si può dire distruggere motivazione all'interno di queste stesse organizzazioni e non altro penso alla nostra stessa regione in cui per esempio i procedimenti disciplinari rimangono relativamente riservati ma possono essere oggetto di foglia ultimo l'intelligenza artificiale noi ci stiamo occupando di questo e stiamo sviluppando personalmente come regione degli algoritmi per poterlo fare più che il machine learning ci interessa il deep learning è una distinzione metodologica ma riteniamo che nel lungo periodo il deep learning avrà un peso maggiore sul machine learning di per sé una delle applicazioni con cui la stiamo pensando con anche una tecnologia non strana cioè emiliana mettendo degli anni uomo noi a fare certi algoritmi perché ripeto l'algoritmo è come un cane e quindi un padrone instabile dà vita ad un cane mordace questo gli amanti dei cani lo sanno e anche chi da ragazzino ha studiato un po' di non si chiamava intelligenza si chiamava cibernetica ai miei tempi sa che deve stare molto attento deve stare molto attento perché la preoccupazione di un'amministrazione pubblica deve esserlo anche per la giustizia che sullo stupidario di facebook finisca una risposta sbagliata quindi va sempre concepita come augmented intelligence cioè deve essere sempre l'operatore che riceve questo aiuto provate a pensare se a una query che viene fatta sul terremoto arriva una risposta stupida molto stupida come quelle che ci dà Alexa come quelle che ci dà Google Google Assistant come quelle che ci dà qualche volta Siri per chi ama parlare con queste signorine e che ci dicono delle cose assolutamente improponibili in alcuni momenti ecco quindi dobbiamo stare molto attenti a non prendere per oro colato nemmeno questo noi la stiamo vogliamo applicare in questo momento sempre con l'epida che per noi è più di una società è una piattaforma perché vuol dire che è un posto dove convergono soggetti diceva bene l'amico Duretti prima che hanno interessi diversi e hanno ruoli diversi compreso i fornitori e possono rendere riutilizzabile un modo di risolvere un problema non solo per noi che siamo un ente a servizio di comuni e ausl non ha senso che cresca solo la regione Emilia Romagna ha senso che cresca tutto il bosco perché se la regione Emilia Romagna ha una trasformazione digitale efficace ma il resto della struttura che rilascia le autorizzazioni finali che dà i tempi di attesa alla sanità non cresce insomma questo non ha come potete immaginare il nostro presidente non è che può dire ho fatto la mia parte nell'endoprocedimento ecco lo vogliamo applicare alle stragi di Stato questa è la prima sperimentazione allora faccio un esempio concreto chi cita un personaggio in un archivio che viene digitalizzato di una strage di Stato non lo farà sempre in modo verosimilmente in un processo esplicito chiamandolo per nome e per cognome qualche volta dirà quello con quel ciuffo lì ok e ho visto adesso un bellissimo film che è uscito che si è Il traditore così via vedete come questo tentativo anche durante tutta la i maxi processo i grandi processi fosse stato il presidente Caruso abbiamo già parlato di questo di rappresentare la mafia come un fenomeno antropologico è stato come si può dire un solo ingannatore della giurisdizione fin dai tempi del fascismo quindi se noi digitalizziamo qualcuno che verosimilmente distorce la realtà con un linguaggio ambiguo di per sé no se quel documento non è nativo digitale cioè vado ad attaccare un OCR peggio ancora l'OCR non lo trova nemmeno il significato ambiguo dove si appiccica il significato l'OCR è la traduzione di un significato digitale qualcosa che è nato cartaceo che io vado ad appiccicare artificialmente successivamente alla scannerizzazione del documento quindi il problema della PEC in un'autorizzazione sequenziale che si diceva prima allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando con una tecnologia non strana di generare dei cervelli che con una capacità semantica maggiore e un apprendimento guidato riescono a cogliere l'ambiguità del linguaggio umano anche nel diritto questo perché gli operatori amministrativi la burocrazia è sostanzialmente un'organizzazione di dilettanti che fa cose straordinarie ma produce tanti atti amministrativi questo è il suo problema e comunica con atti amministrativi e riceve comunicazioni con disposizioni normative che devono essere ambigue perché l'ambiguità è un collante delle organizzazioni cioè quando il 23 dicembre mi soffermo su questo viene approvata la finanziaria c'è una frase e tutti si chiedono boh ma che vorrà dire ecco lì il legislatore non è che non lo voleva dire cosa voleva dire è che c'era un'ambiguità tra coloro che hanno deliberato quella disposizione e poi la giurisprudenza chiarirà i significati prevalenti del modo in cui un'amica magistrato mi dice sempre il diritto deve essere ambigua perché deve essere applicato in modo diverso in un paese molto diverso ecco non so se il nostro cervello artificiale deve cogliere questa ambiguità se no può fare dei grandissimi danni ecco noi vogliamo che quindi mentre ci muoviamo su questo si vada con molta cotera sapendo che dovremmo investire in genti risorse umane in questo momento per questa ragione mettiamo a disposizione queste risorse anche questi 460 mila euro con con l'epida e ci auguriamo che questo costituisca questa prima sperimentazione sulle stragi di stato che nasce da una ricerca ed una implementazione messa in opera di progetti che stiamo facendo però possa costituire possa rappresentare per esempio un contributo se vogliamo piccolo alla questione di alcune stragi tra cui le stragi di Bologna per accertare non solo le verità ma anche la ricerca storica per agevolare anche la ricerca storica perché tutto quello che lì si sta vedendo oggi chiudo un magistrato quando deve fare una ricerca mi hanno spiegato su questo cosa fa deve leggere migliaia e migliaia di milioni di pagine deve riuscire a collegare tra loro significati complessi proviamo a immaginare quando in inchieste come queste l'intelligenza artificiale potrà aiutare a cogliere dei verosimili significati in termini di augmented intelligence rispetto alla ricerca giudiziaria e storica bene direi che qui siamo qui siamo in un altro campo che è la critica del diciamo la critica ai sistemi informativi informatici applicata nella pubblica amministrazione è già importante che la regione sia arrivata a questo livello di di dibattito mi auguro mi auguro poi che anche però le risorse messe a disposizione in collaborazione fra gli enti da parte della regione abbiano come si dice quel protocollo di sensibilità così alta sollevata dal suo intervento non so se riescono ad averla però sicuramente le procedure hanno necessità di utilizzare quel tipo di preoccupazione non da poco quindi ringrazio naturalmente anche questa sezione del nostro dibattito di questa mattina naturalmente Francesco Raffaele Fieri e l'ottimo presidente Colonna che mi ha ricordato anche uno dei miei professori di infanzia prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti